Ciao a tutti amici sono Andrea e benvenuti in un nuovo video Oggi come detto dal titolo siamo nel classico video dell'unboxing degli acquisti del mese E' estate quindi non ci sono chissà quali acquisti già, che felpe, in realtà c'è qualche felpe però fa niente Però comunque è ovvio che alla fine sono come sempre scarpe, tante scarpe e qualche accessorio, qualche maglia, qualche felpa Dunque direi un preci chiacchiere e iniziamo subito col video E a proposito di questo mese appena droppata la mia capsule collection Save the world, open your eyes Volevo ringraziare tutti quelli che hanno supportato sia con complimenti, con critiche, con offese, grazie a tutti E' andata subito sold out la maglia bianca e i pantaloni blu sono finiti subito E' rimasto qualcosa del completo viola, quindi pantaloni viola e maglia viola Super figa, con ricamo bianco e diventa viola col sole Non c'è la torcia all'interno dell'ordine perché alcuni hanno pensato che ci fosse la torcia Poi nell'acquisto in realtà cambia col sole, quello è solo un esempio perché è una torcia alla GUV Pantalone strafigo, con lo strap per diventare shorts Zippa alla fine per regolare la vestibilità Davvero incredibile, vi lascio il link in descrizione se volete Non so se sono ancora disponibili perché sono rimasti pochissimi pezzi dopo il drop Ce ne sono davvero pochi quindi non lo so Se qualcuno lo vuole c'è il link in descrizione 100% made in Italy, il progetto è uscito una bomba Sono super contento perché è un prodotto che io acquisterei Se io vedessi un pantalone così particolare Questo può far schifo, può piacere, a me fa impazzire, io lo comprerei Sono super contento del risultato Moschettone per mettere la catena, quello che volete L'obiettivo era che a chi piacesse, riuscite ad acquistare Mi è dispiacito appunto per le maglie blu Per le maglie bianche sono finite in istante Alcuni manoscritti non sono riusciti E mi dispiace perché ne abbiamo fatte in quantità Ovviamente sono limitati perché li abbiamo prodotti Un tot numero di 15 quali erano Però erano prodotti in quantità in modo che tutti potessero acquistare Purtroppo non è stato così, non ci sarà restock Quindi non è una strategia del fare sold out subito Per poi rimettere in vendita con un restock C'erano solo quelli e quelli ci saranno Ci sono ancora pochi pezzi, penso Ripeto, non so ora che è uscito il video se ci sono ancora C'è il link in descrizione, pagamento, paypal, carta Alla consegna, quello che volete Grazie a tutti veramente del supporto Mi ha fatto davvero piacere ricevere così tanti complimenti Così tanto supporto appunto Anche insulti, critiche, ma più che bene Sono stato davvero contentissimo Quindi davvero grazie a tutti Come si fa in questi casi? Un abbraccio? Grazie Bacini Bacini a chi mi ama e bacini a chi mi odia Grazie a tutti Ma che cazzo è sto cuore? Dai, si mi incogliono Non so come si fa, come si fa a ringraziare? Non sono bravo con le parole Iniziamo col primo pezzo di questo video Che è il cappellino con in testa di Ora do Che capelli Avrò il casco adesso, molto probabilmente Di Breve Studio Cappellino con la A Ovviamente di Abbucchine Mando A fantastica Guardate le cazzate di Atlanta E ai fiorellini di Louis Vuitton È un brand, c'è anche su sto cappellino Non so quanto Comunque retail era sui 45 dollari 40 euro quindi C'è anche in colorazione blu E Breve Studio è un brand americano Che fa appunto questi ripop con vari loghi Qua in questo caso abbiamo Atlanta Con i loghi di Louis Vuitton Molto molto bello Economico Qualità Buona Molto basilare Però un bel acquisto Un cappellino per l'estate Da abbinare a un acquisto Che vedremo dopo E ora Perché Walter Ho un bicchiere di cristallo in mano Perché? Perché ci stai per fare un'opera lirica E lo spacchi con la voce No Ci sei andato vicino Ma no Un acquisto del mese È È l'acqua Perrier In collaborazione con Murakami Quindi una collaborazione A me piace con queste collaborazioni di Acqua Anche quella di Virgil Abloh E in buoni side E ora andremo al taste test Qua abbiamo una boccia singola Andiamo ad aprire Che qualità Da Da rumore Che dire Che dire Il suono Promette bene Sembra acqua Sembra acqua Di cosa odora maestro? Di acqua? Può confermare? Sa di Inculata Sa di truffa Sa di truffa Vediamo se il sapore È acqua È acqua È acqua frizzante Però va giù bene Va giù molto bene La bottiglietta costa 3 euro tipo Che vabbè Cioè oddio vabbè Se la prendi al bar 250 Perché Alla fine è vero Cioè un'acqua al bar Costa 250 Una bottiglietta Questa è Quanti? 33 centilitri Vabbè Non è tantissimo però È un'acqua in collaborazione Ovviamente questi Lascerò così Anche se è arrivato strappato Buona Esteticamente molto figa Prendendo il pack da 4 Così c'è il cartone Se no anche singolarmente Vendola bottigliata da 33 centilitri Vabbè Singola così Non è il massimo Alla nostra Ha un anno pieno di L Procediamo con questa felpa Che è piaciuta a tutti A tutti di voi Fatto impazzire Ed è la felpa di CPFM Quindi Cactus Plant T-Market In collaborazione con Playboy Carti Per l'album Vuola Lotta Red Felpa esteticamente Incredibile Bellissima Con la stampa classica Di CPFM Quella bombata gommosa Che fa questo effetto Crackle Se si piega Se no ovviamente Rimane dritta Il problema qua È il bianco Che diventa subito nero Le lettere Quando si va a toccare Magari non si siede Si appoggia al muro Si vanno a sporcare Ad esempio qua Ad esempio qui La cera di Carti Sono un po' annerite Anche le maniche Con la solita stampa Qua davanti abbiamo Questo Coniglio Larva È un coniglio È un coniglio Boh commentate voi Per Andrea è una larva Per me è un coniglio È una larva perché dietro C'è una farfalla Quindi è una larva Però l'arba Con l'orecchio Se lo te l'hai vista Vabbè È mutata È una corvaglia È una corvaglia Perché Playboy Il simbolo di Playboy È il coniglio Capito? Commentate voi Hanno mandato un XL O meglio Il box era L Dentro c'era l'XL Quindi vabbè L'ho presa circa Sei mesi fa È arrivata ora Che è estate Però fa niente E niente Non potevo fare Ovviamente il cambio taglio Perché a me c'era un pre-order Quindi ha fatto un errore loro Però vabbè Face Io l'ho presa anche quella Con Kid Cudi Per l'album Man on the Moon Molto bella Celeste Ve la farò vedere anche quella Perché spacca Bella bella Vestibilità Leggermente over Queste in XL Ma comunque Mi sta leggermente grande Leggermente leggermente lunga Ma poco poco Per cui ho investito io Ovviamente Prezzo Siamo sui 200 250 euro Su StockX Poi si è lì Fatto un'offerta Ma 200 250 L'ho portata a casa Prossimo pezzo È questa maglia Di Off-White Che Diciamo È limitata Tra virgolette Nel senso che non è la classica Che è uscita in questa stagione Con il logo di Off-White Con le mani Ma semplicemente Il bacco di Caravaggio Al centro E la scritta off E sul retro Ha la croce Tutto per intero Anche con la sezione Del rettangolo E poi il bacco Che si interseca Nella croce Vestibilità Questa è una S Veste gigantesco Però è molto figa Mi piaceva il colore Blu-nero Con un sacco di scarpe Blu-nere Anche le Dunk Baglio che ho fatto Perfetto per questa maglia Qualcuno potrebbe dire Sì ma la classica Maglia d'Off-White Ho stufato E cose simili Ok la classica Maglia d'Off-White Ma messa bene Col pantano giusto Questa maglia È fuori di testa Esteticamente È molto molto bella Ovviamente messa Come la mettono tutti Come se è sempre vista È la classica Maglia d'Off-White Ma messa col pantano giusto Questa è incredibile Mi piace un sacco Fit over Come piace a me Molto molto bella La rete di questa Se è ancora disponibile sul sito È 250 Mi sembra Passiamo ora alle scarpe Alcune Se non quasi tutte Ve l'ho già fatta vedere Quindi trovate il video sul canale Però me ne parlo Molto velocemente Vi dico come è stata l'esperienza Usandole Qualche dettaglio Qualche curiosità Dunque iniziamo subito Quindi iniziamo subito Con le Converse di Off-White Questa non ve l'ho mostrate Recentemente Però l'ho presa molto recentemente Ringrazio Off-White C'è stato il restock Come tutti voi sapete Scarpe immortale Chuck Taylor 70s Molto molto bella Super clean Con un outfit giusto Questa Spacca veramente qui Tank Grateful Dead Green Blue Quindi esclusiva Ai negozi di skate Come colorazione Scarpa mia preferita Nel momento La sto mettendo Molto spesso Molto molto stretta È un 10 e mezzo Io ho 10 US E mi sta stretta Però è incredibile Non è estiva Perché comunque C'ha la finta pelliccia E il suede Ma Ragazzi Io davvero Questa la metto Nella top 3 Di tutte le mie scarpe Io sto impazzendo Per questa scarpa Anche Walter Che dietro la videocamera Mi sto rosicando Non so come facciano Non piacergli L'invidia mi brucia Sono incredibile Secondo me Taschino Per le Golidor E farle vedere gli amici Davvero Scarpa E eccezionale Procediamo con le P-Rod Anche queste Le trovate nello scorso video Insieme alle Grateful Dead Anche queste incredibili Sembrano difficile abbinare Ma in realtà Sono più facili Di quel che sembra Sono tutte le signature shoes Di P-Rod Di Paul Rodriguez Lo skater di Nike Un sacco di materiali usati Un sacco di dettagli Ho fatto un outfit su Instagram Su cui si è scatenato il putiferio Perché ho fatto un outfit Con base nera E nel video dissi Di non fare un outfit tutto nero Però Quello Che ora vedrete in sovraimpressione Non è un outfit tutto nero Tutto nero vuol dire Completamente nero Quello è un outfit Con base nera Con un sacco di colori E se ci fate caso L'occhio va subito Sulla felpa E poi sulle scarpe Che si legano È un outfit tutto armonioso Tutto perfettamente unito Ho spiegato il discorso Alcuni mi sono andati contro Ovviamente Ognuno la pensa come vuole Però comunque Quello non è un outfit tutto nero I sostenitori di Walter I valteriani Perché anche lui Sostiene la tesi Che fosse tutto nero Come outfit Commentate Commentate Nei commenti Fatemi sapere Se anche voi Pensate Se è un outfit tutto nero Che poi non lo è Cioè non è che c'è tanto Da discutere in realtà Perché non lo è Ma È a base nera Però non è una felpa nera Quella Valteriani Abbassi valteriani No avete sentito Quindi voi che mi sostenete Tutti a commentare Outfit nero Andiamo avanti Con le Jordan 6 I Travis Scott Queste ancora non l'ho messo Hanno ancora i lacini attaccati Perché è una scarpa super pesante Tra l'altro anche un po' scomodo La 6 Io ho le olive Che preferisco anche Walter tu quelle preferisci Olivo Sei proprio un valteriano Cioè è incredibile C'è la fan page Completamente in airy suede Quindi suede peloso Qualità Molto buona Non è affatto male Suola glow in the dark Quindi che si illumina al buio Come anche la linguetta Il lace lock Il pull tab Trovate una recensione sul mio canale Di tutti i dettagli Anche qua Taschine Per le goleador Qua tra l'altro Ho messo la doppia tasca Big bubble Le big bubble anche Tra l'altro sembra che io Spaccio Che mi droghi In realtà no Ovviamente non spacciate Non fate niente di tutto ciò Davvero Metteteci Terminiamo con le Jordan 3 Amamanier Amamanier A parer mio La scarpa dell'anno Una delle migliori Sicuramente Uscite quest'anno Anche di questo Trovate un video sul mio canale Approfondito Scarpa incredibile Tutta in pelle Suede Interno trapuntato A di Asorca Dando pisci Che si è tutta fregna Dietro col Nike Aspetta Da parte A di Atlanta Anche del logo Di Amamanier Che appunto si trova in Atlanta E anche in altri posti dell'America Becco il Nike Air Quindi per gli appassionati Incredibile Piene di dettagli Piene a zeppa Davvero di dettagli Anche l'interno Ancola E il Jumpman Per una recensione approfondita Vi consiglio il video sul mio canale Perché questa scarpa È incredibile Merita Tantissimo Ragazzi Il mio finisce qui Spero vi sia piaciuto Mi raccomando Fatemi sapere nei commenti Siete un valteriano Oppure meno Io conto in voi Se siete valteriani Non vincerete nessuna scarpa Sui sneakers Quindi No in realtà Occhio Sando la sua parte È sempre l Quindi Grazie a tutti Per aver visto il video Se volete sapete Se volete sapete Se volete sapete Anche o ce l'anerati Iscrivete al canale Come dai Condividete E noi ci vediamo In un prossimo video Abbasso i valteriani Fa alcuni valteriani